All'andata finì 2-1, con l'Arezzo che dette una prova di forza e una pianese comunque all'altezza che impegnò gli Amaranto per 90 minuti. Le due protagoniste di questa sfida sono attese domani al città di Arezzo. Se l'Arezzo riuscirà a ripetere la vittoria dell'andata, le porte della Serie C si apriranno già domani sera ed è quello che i tifosi Amaranto sperano. Mister Indiani, che settimana è stata questa? Come le altre abbiamo cercato di fare una settimana come le altre. E' chiaro che non è, perché non è una settimana come le altre, solamente per il discorso dell'interesse e dell'aspettativa che c'è in città. Però noi abbiamo cercato di fare una settimana come le altre. Che partita si aspetta domani? Come all'andata, come all'andata in cui tutte e due le squadre cercheranno di vincere, aperta, bella o malandata, perché all'andata oltretutto è venuta anche una bellissima gara. Aspetta la partita ai denti e all'andata. Lei teme che possa esserci un po' di tensione dal punto di vista nervosa nella squadra? Sicuramente un po' di più ci sarà, però non dobbiamo esagerare perché se esageri fai l'effetto opposto. Abbiamo cercato di lavorare tutta la settimana per non esagerare. Ottimo lavoro questa settimana? Sì, sì, ottimo, ottimo. Ragazzi bravissimi, è chiaro, tutti volevano iniziare, ma anche questa non c'è grossa differenza nelle altre settimane. Forse questa settimana un po' di più, ma non in maniera esagerata. Anche tutte le altre settimane hanno lavorato benissimo. Mister, le dispiacerebbe se domani la squadra fosse costretta a rinviare l'appuntamento con la promozione? Sì, preferirei vincere la domani, ripeto, per il pubblico, per duemila cose, però se si rinvia l'importante è arrivarci. Della Pianese teme qualcuno in particolare? Ma no, a tutta la squadra, tutta la squadra. La squadra mi ha dimostrato per tutto l'anno. Un bilancio complessivo di questa sua permanenza ad Arezzo quest'anno, direi più che soddisfacente? Credo proprio sì, ma aspettiamo di farla completamente soddisfacente.